La Costituzione italiana è il frutto dell'impegno e dell'immaginazione dei rappresentanti del popolo riuniti nell'Assemblea Costituente. La Carta Costituzionale è la legge fondamentale dello Stato, vuol dire che è al di sopra di ogni altro tipo di legge ed è di tipo rigido, ossia prevede un sistema complesso di revisioni per poter essere modificata. La Costituzione conta 139 articoli e non inizia con l'articolo 1 ma con l'articolo 13 perché i costituenti decisero di dividere la Costituzione in quattro parti, i principi fondamentali dall'articolo 1 all'articolo 12, i diritti e i doveri dall'articolo 13 all'articolo 54, l'ordinamento della Repubblica dall'articolo 55 all'articolo 139 per concludersi con 18 disposizioni transitorie e finali ordinate con i numeri romani necessari per gestire la transizione dal precedente ordinamento a quello repubblicano. Non nasce come una gentile concessione del sovrano ai suoi sudditi come fu per lo statuto albertino e neanche venne calata dall'alto da un'entità benevola ma contiene in sé i primi tratti di una società libera e democratica frutto del sogno e dell'impegno di un gruppo di uomini e di donne che era appena emerso dalle macerie di due guerre mondiali e una dittatura ventennale. Non è un caso che nel primo articolo abbiano voluto specificare in modo chiaro che la sovranità appartiene al popolo o che all'articolo 10 abbiano voluto inserire il diritto d'asilo. La volontà era quella di cancellare i retaggi del passato sognando un paese libero e democratico che ripudiasse la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controverse internazionali. Nella seconda parte si continuano a delineare i diritti ma vengono introdotti anche i doveri del cittadino ma più in generale si regolano i rapporti civili, etico-sociale, economici e politici che intercorrono fra il cittadino e lo Stato. Nella terza parte si definisce l'ordinamento dello Stato, come si compone il Parlamento, come si elegge, che requisiti devono avere gli aspiranti parlamentari e i loro votanti e come si approvano le leggi, così come per l'elezione del Presidente della Repubblica, la formazione del governo o gli ordini della magistratura. L'obiettivo era anche quello di decentralizzare le istituzioni dello Stato dando più autonomia alle regioni, le province e ai comuni. Quando la Costituzione tratta della struttura dello Stato divide il potere in tre rami. Giudiziario affidato alla magistratura in modo autonomo, il legislativo in mano al Parlamento che concede la fiducia al governo per esercitare il terzo potere, quello esecutivo. Dall'articolo 134 all'articolo 138 si chiariscono le garanzie costituzionali, i principi che rendono la nostra carta costituzionale rigida, cioè che non si può modificare tramite leggi ordinarie. Concludendosi con l'articolo 139 che recita la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale perché a nessuno venisse in mente di tornare al passato. Il testo definitivo viene approvato il 22 dicembre del 1947 con 458 voti favorevoli, 62 contrarie e nessuno astenuto su un totale di 520 votanti. Il 27 dicembre viene promulgata per entrare in vigore il primo gennaio del 1948. È considerata la Costituzione più bella del mondo e nonostante siano passati decenni rimane ancora un testo attuale grazie alla lungimiranza di una classe politica che seppur divisa aveva compreso in maniera profonda il senso del suo mandato.